Salve a tutti amici, in questo video vediamo come installare Ubuntu da una chiavetta USB. Utilizzeremo un metodo facile e veloce grazie a questo programmino che si chiama UnetBootin ed è disponibile per Windows, per Linux e per Mac. In descrizione trovate il sito, basta cliccare, in alto c'è il pulsante di download per Windows, per Linux o per Mac. Questo programma si occupa a sua volta di scaricare la versione di Ubuntu, quindi potete usare questa procedura oppure se avete già scaricato il file ISO di Ubuntu potete cliccare questa spunta e poi dargli il percorso ISO. Questo è un programma praticamente portable, quindi una volta scaricato fate il doppio clic e vi si apre questa schermata. Noi facciamo il procedimento più veloce e semplice che è quello di scaricare e poi trasportare l'installazione su una chiavetta USB. Quindi prima di tutto inserite una chiavetta USB e formattatela in FAT32. Quindi prima salvate tutti i vari file che avevate sulla chiavetta ovviamente, quindi proprietà, scusate, formatta. Scegliamo anziché NTFS FAT32 perché con l'NTFS non funzionerà, quindi FAT32. Formattazione veloce va benissimo, facciamo avvia, ok. Quindi aspettiamo la fine della formattazione e poi riapriamo il programma di UnetBootin. Usiamo pulsante distribuzione, selezioniamo Ubuntu, versione live, l'ultima, che nel mio caso è la 14.04, quindi questa. A questo punto selezioniamo tipo di unità disco fisso o USB. Potete utilizzare anche un disco fisso, noi usiamo una unità USB. Assicuratevi di avere una chiavetta abbastanza capiente, se no vi dirà errore. Unità del disco, quella della chiavetta e facciamo ok. A questo punto lui comincia a scaricare l'immagine di Ubuntu, che ci vorrà ovviamente un po' di tempo, quindi mando avanti il video. Comunque vi dico intanto un'altra cosa. Nel computer in questione per installare Ubuntu sarà necessario impostare come boot principale l'USB, poiché i computer non avviano di solito, se non siete voi a dirglielo, prima l'USB, ma prima il disco rigido o un CD-ROM. Quindi se inserite la chiavetta USB nel computer in questione e non vi parte nulla e vi arriva Windows, se non vi preoccupate, bisogna entrare nel BIOS e selezionare questa modalità, ovvero quello di invertire il boot priority. Ho intenzione di fare un video per mostrare vari BIOS e quindi vedere un po' come si fa sui vari BIOS. Quindi grazie a quel video riuscirete in qualche modo a capire. Intanto vi dico che se avete l'ultimo BIOS, uno degli ultimi BIOS chiamato UEFI, sarà necessario spesso disattivare una funzione chiamata Secure Boot, che è una funzione che impedisce l'avvio di sistemi operativi Linux, ma solo di Windows, quindi basta disattivarla e tutto è risolto. Comunque in descrizione metterò anche quel video non appena è pronto. Quindi per ora metto un pausa e aspettiamo lo scaricamento di Ubuntu. Ecco qua, adesso sta estraendo i file. Se vi fallisse il download, ovvero vi si bloccasse a metà o a un certo punto, può darsi sia un mancamento di linea o qualcos'altro, dovete chiudere il programma e riaprirlo e rifare la procedura. Quindi aspettiamo l'estrazione e l'installazione del bootloader. Quindi programma molto molto efficace e molto semplice, alla portata di tutti. Ed ecco qua, la procedura è completata, ci chiede di riavviare. Dopo riavvio selezionare nel BIOS l'opzione di avvio da USB, ovviamente. Quindi ci sono altri due video da vedere per chi è interessato all'installazione di Ubuntu, ovvero l'installazione vera e propria adesso di Ubuntu sul computer, ma ho intenzione di farne due. Una che installa Ubuntu e basta, un'altra per installare Ubuntu a fianco di Windows. Infine il video su come selezionare l'opzione di avvio da USB nel BIOS. Un'altra cosa, adesso invece che fare riavvio adesso faccio Esci. Lo dico nel caso ci sia qualcuno che mi dica, qua non vedo Ubuntu, semplicemente qua dovete scorrere in basso fino a trovarlo. Selezionate Ubuntu e la versione, l'ultima, live. Ricordatevi live, meglio così, c'è la live X64, ovviamente. Io ne ho presa una a caso, comunque X64 per la 64 bit, quella ovviamente consigliata per tutti i nuovi computer. Questa è la versione a 32 bit, quindi X64 oppure non X64 per il 32 bit. Un saluto a tutti.